Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Michelle Lunsicher su Instagram ha pubblicato un video svelando una verità tenuta nascosta Ecco le parole della donna.Michelle Lunsicher marito.Negli ultimi mesi si è molto parlato di Michelle Lunsicher sia per via dei suoi impegni lavorativi sia per via della sua vita sentimentale Infatti, negli scorsi mesi Michelle ha annunciato la separazione dal suo secondo marito Tommaso Trussardi e successivamente è stata paparazzata dal giornale tedesco Bund in compagnia di Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello XIV e famoso medico italiano, mano nella mano in Sardegna Michelle Lunsicher e la verità svelata.Al momento nessuno dei due ha confermato né smentito il loro presunto flirt, ma la donna ha ironizzato sulla questione facendosi fotografare nello stesso atteggiamento avuto nelle foto con Angiolini assieme ad un suo collaboratore sbeffeggiando in questo modo tutto il mondo del gossip La donna, è stata sposata con Eros Ramazzotti da cui ha avuto una figlia Aurora che spesso è stata con lei sui palchi di alcune sue trasmissioni, tra cui l'ultimo Michelle Impossibile dove la donna ha anche invitato il suo primo ex marito facendo sperare ai telespettatori in un ritorno di fiamma mettendo a tacere le voci dopo qualche giorno dichiarando che tra lei e il cantautore c'è sempre stato un profondo affetto anche dopo la fine della loro storia Michelle Lunsicher verità sul marito ubriaco.Attualmente Michelle è impegnata nella conduzione di Strescia la notizia, ruolo che ricopre da molti anni Al fianco di Gerry Scotti e date le voci di un presunto ritorno della serata dei Telegatti, come ha fatto intuire la pagina social di TV Sorrisi e Canzoni, molti sono gli utenti che vorrebbero proprio la coppia formata dalla unzichere Gerry Scotti alla conduzione di un'eventuale nuova edizione dei premi della televisione italiana Il video del passato.Recentemente, Michelle ha pubblicato il video del suo primo provino svolto nel 1995 a Cologno-Monzese ricordando nella didascalia la sua infanzia e come spesso voleva scappare via dalla realtà che la circondava La donna nel testo parla delle urla di dolore provenienti dalla camera dal letto e dalla disperazione di sua madre che ogni giorno combattiva con suo padre che aveva dei problemi con l'alcol Ineche, la madre di Michelle, nei giorni scorsi era apparsa in una storia Instagram della conduttrice mettendola in guardia rispetto al suo non controllarsi nel bere vino affermando di avere tra i suoi parenti molte persone con problemi di alcolismo Michelle, alla fine del post, invita tutti quanti i suoi fan a non smettere di sognare e a continuare a sperare che i sogni si possano realizzare Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video